Cari amici che come me state dalla parte della scienza, un saluto da Nat Russo. Oggi vorrei invitarvi a visitare tre sale della raccolta permanente di scienze nautiche che si trova in via Caboto al numero 2, organizzata dagli amici del Leon Pancaldo. Le tre sale hanno i seguenti nomi, marinaresche, navigazione e operatori portuali. Vi aspettiamo, a presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!